Allora, innanzitutto una piccola premessa, questa legge di bilancio ha portato delle novità appunto fiscali e previdenziali che avranno degli impatti diretti in borsa paga dei dipendenti. E cominciamo con una breve premessa su quello che, insomma, cos'è l'IRPEF, sostanzialmente cosa sono le detrazioni, perché non essendo materia di diretta di monti facciamo una piccola premessa per far capire che cosa che modifica ha portato questa legge di bilancio per poi addentrarci nelle modifiche. Ed infine parleremo dell'assegno unico, perché anche l'assegno unico modificherà le buste paga, sostanzialmente gli importi dei netti appunto dei dipendenti. Allora, innanzitutto appunto qualche cenno di normativa fiscale. L'IRPEF che cos'è? L'IRPEF è un'imposta che viene pagata sui redditi, viene pagata da tutti perché sulle persone fisiche, quindi anche dai dipendenti. L'IRPEF fa la particolarità di essere progressiva a scaglioni, avere un meccanismo particolare di calcolo appunto che si dice progressiva a scaglioni. Cosa vuol dire? Che ci sono degli scaglioni di reddito, che dopo vedremo, che sono cambiati dal 2021 al 2022 e ogni scaglione corrisponde ad una liquota che man mano è crescente, quindi più aumenta il reddito, più aumenta la liquota applicabile. Bisogna conoscere, insomma, oltre a questo meccanismo di calcolo dell'IRPEF, anche che l'IRPEF può essere ridotta come con le deduzioni e le detrazioni. Le deduzioni sono delle somme che vengono tolte sostanzialmente all'imponibile IRPEF e quindi a quel numero corrispondente sostanzialmente alla somma dei redditi, viene tolto a quel numero su cui si calcola poi appunto l'IRPEF, su cui si applica la liquota, la percentuale quindi della liquota definita. Quindi vengono tolte delle deduzioni che sono appunto degli importi definiti da legge, ad esempio nelle deduzioni ci sono i versamenti alla previdenza complementare, se un lavoratore versa dei soldi alla previdenza complementare, questi importi verranno dedotti dall'imponibile IRPEF e quindi abbatteranno praticamente la somma delle imposte dovute. E ci sono poi invece le detrazioni. Le detrazioni sono delle somme che vanno ad abbattere l'imposta che una volta che è stata calcolata. E le detrazioni da cosa dipendono? Perché vengono riconosciute? Ci sono insomma diverse motivazioni. Possono essere riconosciute per il tipo di reddito che una persona percepisce, quindi ad esempio ci sono delle detrazioni chiamate per reddito del lavoro dipendente assimilati, quindi ad esattamente quelle che vengono applicate ai dipendenti e ci sono delle detrazioni che invece dipendono dalla tipologia di spesa affrontata. Ad esempio ci sono le detrazioni per spese mediche, insomma molto comuni. Quindi come dicevo si prende la somma dei redditi, si applica la percentuale, la liquota applicabile, arrivo all'IRPEF lorda, quindi l'imposta lorda, tolgo le detrazioni e avrò la mia imposta netta, cioè l'imposta quella che effettivamente devo pagare e che devo pagare. Quindi quali sono le novità di questa riforma fiscale? Allora innanzitutto sul lato IRPEF sono state fatte alcune modifiche importanti, vale a dire il numero di scaglioni, che appunto sono queste fasce di reddito, dopo le vedremo nel dettaglio, sono stati ridotti da 5 a 4 e sono state ridotte anche delle aliquote. In secondo luogo sono cambiate le formule per il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente ed è stato eliminato il trattamento integrativo, quei famosi 1200 euro che si vedevano in busta, paga quindi 100 euro al mese, quello che era il vecchio bonus Renzi che poi è stato riformato, che si vedeva fino al 31 12 2021, da adesso sostanzialmente non si vedrà più. Come vedremo successivamente, nessuno paga di più in busta paga, cioè nel senso andando a fare poi i paragoni prima e dopo, la tassazione si è abbassata più o meno per tutti. Ci sono delle fasce che hanno avuto più vantaggi da questo punto di vista e delle fasce che invece di reddito che hanno avuto meno vantaggi, vedremo nel dettaglio chi ha avuto più vantaggi da questa riforma fistale e chi ne ha avuti di meno. Allora, questi sono gli scaglioni di cui vi parlavo. Io vedete che ho diviso in colonne e righe, vale a dire, allora la colonna di sinistra, quella grigia, definisce, sono riporta le aliquote annuali e mensili fino al 31 12 2021, quindi nella parte alta vediamo le aliquote annuali, insomma le fasce annuali di reddito, mentre in basso vediamo le fasce di reddito mensili. Nella parte di destra vediamo le nuove aliquote e i nuovi scaglioni, quindi vediamo che appunto l'aliquota, la seconda aliquota, si è abbassata da 27 a 25, la terza aliquota si è abbassata da 38 a 35. Praticamente l'ultima aliquota, che è quella del 43%, sostanzialmente adesso si applica a tutti i redditi superiori ai 50.000 euro. Questa riforma, ovviamente, anche se le aliquote che si sono ridotte, si sono ridotte come vedete nella fascia media. In realtà essendo l'IRPEF come calcolo, un calcolo appunto a scaglioni, anche i redditi più alti, anzi soprattutto i redditi più alti, hanno beneficiato di questa riforma, perché se io ad esempio ho un reddito di 70.000 euro, io comunque avrò nei primi 15.000 una aliquota applicata del 23, dai 15 ai 28 del 25, dal 28 ai 50 del 35, quindi i redditi più alti anche avranno, vedranno soprattutto la propria imposta totale ridotta grazie a questa riforma. Qui ho preso una tabella che era su una circolare della Fondazione Studi di Consulenti del Lavoro, che secondo me è insomma abbastanza chiara, perché paragona gli scaglioni e le aliquote e fa capire per le singole fasce di reddito che cosa succede all'ultima aliquota marginale, quindi qualcuno avrà una riduzione, qualcuno avrà sostanzialmente un aumento, però sostanzialmente tutti ne gioveranno, come vi dicevo prima e dopo vi faccio vedere gli esempi su un grafico che fa vedere la riduzione sostanzialmente dell'imposta lorda su tutte le fasce di reddito. Questo è un esempio di come si calcola l'IRPEF, appunto per farvi capire qual è il meccanismo di come si calcola appunto l'IRPEF a scaglioni di reddito. Io sostanzialmente ho messo, ho fatto due, ho fatto anche qua un esempio su un reddito annuale di 40.000 euro, dove sostanzialmente nella colonna di sinistra ho fatto il calcolo sul mese, mentre nella colonna di destra ho fatto il calcolo sull'anno. Nella fascia alta c'è il calcolo dell'imposta calcolato con le vecchie aliquote, mentre nella fascia bassa con le nuove aliquote e i nuovi scaglioni. Ora vedete ad esempio che su un reddito di 40.000 euro il dipendente pagherà 620 euro in meno di imposta lorda, quindi insomma questo è il calcolo. Quindi come vedete, ad esempio adesso sto guardando il rettangolino delle nuove aliquote sul base annuale, quindi quello in basso a destra, vedete appunto sui primi 15.000 euro si paga il 23%, quindi 3.450, dai 15 ai 28 al 25%, quindi 3.250, da 28 a 40.000, quindi in quella fascia lì, pagherò 4.200 euro per un totale di 10.899 euro. Questa è la mia imposta lorda che posso appunto ridurre grazie alle detrazioni che vedremo tra poco. Questo è un grafico che vi fa vedere come per, in realtà, come per tutte le fasce di reddito, di fatto si è diminuita l'IRPEF lorda, quindi vedete che anche su un reddito di 60.000 euro, grazie al meccanismo degli scaglioni, di fatto l'imposta totale viene ridotta. Dopo vedremo proprio un pochino più nel dettaglio anche a livello proprio di numeri. Come sono cambiate invece le detrazioni da lavoro dipendente? Allora le detrazioni da lavoro dipendente sostanzialmente sono cambiate così come vedete da, insomma, in questa slide, quindi. A sinistra ho, io ho, diciamo, le formule delle vecchie detrazioni, mentre, scusate, sono un secondo. Ok. Mentre a destra avrò, diciamo, le formule delle nuove detrazioni. Vediamo anche dopo, appunto, l'impatto a livello proprio numerico sulla busta paga. Allora, quindi, vediamo che le detrazioni, appunto, in generale sono state aumentate. Perché? Perché, appunto, è andato a essere tolto quello che era prima il trattamento integrativo, l'ulteriore detrazione. Quindi, io, sostanzialmente, vedrete che verranno completamente tolti, che verrà completamente tolto quello che è il trattamento integrativo, quindi quei famosi 1200 euro, per tutti i redditi sostanzialmente inferiori a 28.000 euro. Sarà completamente tolto. Rimarrà fisso per i redditi sotto i 15.000 euro annuali, mentre per i redditi tra i 15.000 ai 28.000 euro il trattamento integrativo verrà riconosciuto se e solo se tutta la somma delle detrazioni per familiari a carico, altre detrazioni e detrazioni per mutuo e prestiti, sostanzialmente andranno a coprire la mia imposta lorda. Quindi, per le spese sostenute fino al 31.12.2021. Quindi, solo in questo caso, anche per i redditi tra i 15.000 e i 28.000, verrà corrisposto il trattamento integrativo. Ora, ovviamente, quindi, mentre in busta paga per i redditi sotto i 15.000, verrà automaticamente riconosciuto il trattamento integrativo. Il mio consiglio è per i redditi tra i 15.000 e i 28.000. Se voi pensate che il dipendente o voi stessi possiate aver diritto a questo ulteriore trattamento, insomma, questo trattamento integrativo perché pensate che le vostre detrazioni vadano a coprire l'imposta lorda, quello che è consigliabile è presentare il 7.30, perché si va a conguaglio, sostanzialmente, si fa un calcolo delle imposte considerando tutti i redditi, considerando tutte le detrazioni. Ora, io qua ho fatto sostanzialmente un esempio di quello che sarebbe l'impatto delle nuove aliquote e delle nuove detrazioni sulle varie fasce di reddito. Ora, vedrete che nella colonna di sinistra ho le vecchie detrazioni, nella colonna centrale ho le nuove detrazioni e nella colonna, quella più di destra, ho fatto proprio il calcolo in base alle fasce di reddito, quindi nella prima riga avrò un reddito di 20.000, nella seconda un reddito di 26.000, nella terza un reddito di 30.000 e nella quarta un reddito di 45.000. Facendovi vedere sull'anno, quindi questi sono numeri annuali, che cosa cambia dal 31-12-2021, quindi dal 2021 al 2022? Vedete che, ad esempio, per chi ha un reddito di 20.000 ci saranno 200 euro in più in busta paga nell'anno, quindi ovviamente su 13 mensilità o 14 in base al contratto collettivo che viene applicato. Per un reddito di 26.000 ci saranno circa 100 euro in più, per un reddito di 30.000 ci saranno circa 80 euro in più, invece per un reddito di 45.000 più di 800 euro in più. Quindi questo è la riprova del fatto che, come vi dicevo, appunto alcune fasce vengono più favorite rispetto ad altre fasce.